Siamo in compagnia del dottor Montes per vedere da vicino come si svolge una valutazione ortottica. Qual è la prima cosa che lei fa quando entra un piccolo paziente? La prima cosa che faccio è osservare le bambine come si comporta in stanza, cioè come si orienta e poi darò indicazioni ai genitori per renderli partecipi ad un'attività che deve essere quasi di gioco. Ora passiamo alla pratica, ad osservare i test di valutazione. La prima manovra da effettuare è quella di capire se il bambino è affetto o meno da un vizio refrettivo. Una tecnica rapida è la schiascopia statica secondo Strampelli, in cui si esamina il riflesso indotto da uno strumento che è l'oftalmoscopio diretto. È possibile valutare l'acutezza visiva del bambino anche in coloro che ancora non conoscono le lettere, tramite una metodica di associazione. Chiaremo una letterina sul monitor e il bambino dovrà dirci qual è quello uguale. Io con questo strumento che è un prisma sposto la posizione dell'immagine sull'occhio. Gabriele, segui l'immagine. Bravo. Segui. Bravo. Così abbiamo evocato il riflesso su quest'occhio. Adesso andiamo a evocare lo stesso riflesso su quest'altro occhio. Vedete? Se il bambino non mostra alcun riflesso, è possibile sospettare la presenza di una alterazione visiva nell'occhio che non mostra riflesso. Queste tre valutazioni ci danno un'immagine della condizione del bambino. Se, per esempio, sospettiamo la presenza di una deviazione strabica manifesta, non andremo a indagare la presenza di sensorialità binoculare perché già sappiamo che il bambino non può avere un senso stereoscopico. Se invece è presente un difetto di vista da correggere, andremo prima a correggere il difetto di vista e poi lo sottoporremo alla valutazione sensoriale, altrimenti avremo dei dati falsati dalla condizione riflessiva. Adesso sottoporremo a Gabriele all'analisi del test stereoscopico di WIRT. Facciamo indossare a Gabriele un occhiale polarizzato e gli chiediamo che cosa percepisce. Bravo Gabriele. E questa farfalla è sul piano o viene fuori dal piano? Viene verso di te? Fuori. Mi prendi le ali della farfalla? Bravissimo Gabriele. Con questa manovra di cover test alternato mettiamo in evidenza la presenza di una deviazione, se esiste. In conclusione, al termine della valutazione ortottica, l'ortortista se individua delle alterazioni le comunicherà all'oculista e condividerà insieme a lui il percorso terapeutico più idoneo. In assenza invece di alterazioni è opportuno che i bambini vengano seguiti periodicamente nei primi anni di vita, soprattutto nei primi sei anni di vita, con delle cadenze che verranno stabilite in rapporto al rischio di sviluppare o meno determinati disturbi. In età più avanzata, l'oculista determinerà in presenza di familiarità per determinati disturbi il calendario dei controlli.